Un appuntamento ormai immancabile nel periodo di fine anno è la presentazione del calendario ceraiolo promosso dalla famiglia dei ceraioli di San Giorgio, svoltasi domenica scorsa in una taverna gremita a fare gli onori di casa il presidente Patrick Salciarini che ha voluto ricordare come l'iniziativa risalga all'anno esatto di istituzione della famiglia san giorgiara. La 46esima edizione di questa presentazione del calendario è dal 1973 che il calendario ceraiolo entra nelle famiglie degli Eugubini e dei ceraioli di San Giorgio. Ringrazio tutti per la collaborazione perché è stato un lavoro importante e colgo l'occasione per augurare a tutti gli Eugubini, a tutti i ceraioli un buon Natale e un buon anno. Accanto a Salciarini rappresenta anche il sindaco Stirati e il vescovo Paolo Cibedini che non sono voluti mancare sebbene la giornata che coincideva quest'anno con le celebrazioni dell'immacolata concezione fosse molto nutrita di impegni. Presenti anche i rappresentanti delle istituzioni ceraioli, i presidenti di università e famiglie e tanti ceraioli di San Giorgio. Nel calendario è rappresentata la coralità di un popolo, ha detto il presidente Salciarini nel presentarlo, insieme a Giuseppe Ronchi che ne ha curato l'edizione. Particolarità è che i mesi sono stampati in senso anti-orario come lo sono le birate in Piazza Grande. Copertina dedicata ad una splendida istantanea effettuata con il drone delle birate della mattina che raffigura una sorta di pastorale umano. Omaggio anche al Campanone, nel 250esimo compleanno, di uno degli assoluti protagonisti del 15 maggio. Il calendario si chiude con una foto d'epoca risalente al 1906 con il cero di San Giorgio in via Cavallotti, cosiddette scalette dello Zoppo, tra Corso Garibaldi e via Savelli. Non mancheranno altri appuntamenti legati alla festa dei Ceri, oltre alla mostra di Milano che si apre martedì prossimo con l'esposizione dei Ceri Mezzani. Il 21 dicembre farà festa l'Università dei Muratori con il suo patrono San Tommaso e l'investitura dei Capitani per il 15 maggio 2020. Quindi a gennaio torneranno al voto i Ceraioli per designare i capoglieci della prossima festa dei Ceri.